Sono stati molti a Ossimo, cittadini e associazioni, ad aver accettato l'invito dell'amministrazione a prendere parte all'incontro pubblico sul piano di governo del territorio. Un primo incontro forse un po' in ritardo rispetto alle scadenze imposte dalla regione. Purtroppo Ossimo ha avuto una storia travagliata negli ultimi anni sul PGT e senza far polemica comunque noi abbiamo fin da subito lavorato per poter trovare un progettista e abbiamo indetto immediatamente una gara alla quale hanno partecipato ben 35 professionisti e tra questi 10 selezionati hanno fatto una loro offerta economica e di lavoro e l'architetto Antonio Rubagotti da Brescia ha vinto la gara presentando una tempistica che ci dovrebbe portare al gennaio 2013 con l'approvazione definitiva del nostro PGT. E' stato proprio l'architetto Rubagotti in qualità di progettista incaricato della redazione del piano e l'ingegnere Roberto Bassi, assessore al governo del territorio, ad illustrare i presenti le linee guida previste. Le linee guida sono quelle del nostro programma elettorale e quello dell'identità sempre maggiore dei centri storici con la possibilità che in un futuro questi centri storici possano condividere anche la mentalità di questo paese. Limitare il consumo di territorio soprattutto cercando di utilizzare il tessuto urbano che ha già una sua conformazione con i centri storici e il terreno immediatamente vicino. Ovviamente noi terremo in considerazione tutte le osservazioni dei singoli cittadini, delle associazioni e di tutti coloro che vorranno apportare il loro contributo alla formazione del PGT che sicuramente è il nostro strumento e il fiore all'occhiello che vorrebbe qualificare la nostra amministrazione. Il lavoro quindi è ancora lungo e le risorse come sempre poche, anche se il BIM, accogliendo una richiesta del Comune stesso, aveva erogato un finanziamento a fondo perduto di 45 mila euro. Il lavoro quindi è ancora lungo e la nostra amministrazione.